Ancora una sparatoria negli Stati Uniti, ancora una nuova tragedia a Reno, nel nord del Nevada, quando un uomo armato ha fatto irruzione nel reparto di neurologia del Reno Regional Medical Center. Sono stati avvertiti degli spari intorno alle 15 dal terzo piano del moderno complesso e il triste conto è di due morti e due feriti. Le prime immagini sono state trasmesse in diretta dalla CNN, ma c'è ancora molta confusione sulla ricostruzione della dinamica del caso. L'uomo avrebbe sparato contro le tre vittime, uccidendone una e lasciando le altre gravemente ferite, prima di rivolgere l'arma contro di sé e suicidarsi. L'ospedale è stato circondato dalle forze dell'ordine, con l'intervento anche delle squadre speciali, ma la polizia assicura che non è stato aperto il fuoco contro l'aggressore. Tante le domande, ancora senza una risposta, come i motivi dell'aggressione, che restano ignoti, e l'identità delle vittime, tra cui figura forse una dottoressa del centro medico.